Salve a tutti, sono Roberto Siconolfi, docente della Unitreedu di Sociologia Generale e Mediologia. Il corso sarà erogato in modalità online live il mercoledì mattina alle ore 10.30 fino alle 12.00. I programmi e i materiali web saranno scaricabili dal nostro sito o saranno erogati in via web. Il corso si basa sullo studio della teoria sociologica contemporanea e quindi tutte quelle teorie che sono figlie del positivismo e quindi il funzionalismo, lo struttural funzionalismo, le teorie del conflitto, le teorie della scelta razionale e quelle teorie che invece non sono figlie del positivismo e quindi l'interazionismo simbolico e la sociologia fenomenologica. A questa parte sarà integrata la parte sulla mediologia e quindi lo studio dei mezzi di comunicazione non come in base alla vecchia mentalità figlia essa stessa del positivismo secondo la quale il medium è lo strumento per l'ottenimento di qualcosa ma in base a quella che è una vera e propria rivoluzione della concezione del medium a partire da grandi ricercatori come Marshall McLuhan che invece vedono il medium stesso come il fine della cosa quindi il medium come messaggio, il medium come agente dei processi storici con tutta la sua capacità modellante e degli eventi storici e delle società umane e della stessa struttura antropologica umana a cominciare dalla parte neurocognitiva il programma del corso oltre al curriculum del docente sarà disponibile sul nostro sito www.unitreedu.com oltre a tutti gli altri corsi, oltre 300 ai quali ci si può iscrivere con le modalità richieste e ai quali ci si può partecipare liberamente www.unitreedu.com